Buona tante. Ciao. Oh grazie di essere venuto eh. Eh di che figura eh. Grazie. Tanto per la scuola occupata. Gli alunni sono delle capre ma ogni tanto così giusto la fanno. Tieni. Che ce devo fare con questo? No è che sono le dieci lo so, sono le dieci ma io ho bisogno di bere. L'amico è quello. È calda. Lasciala lì scusa. Vabbè no a sto punto va bene. Senti vale. Non so come dirtelo. Provaci. Io credo di aver viaggiato nel tempo. Te basta. No no. Lo so che sembra una follia ma almeno tu mi devi ascoltare. Hai capito? Cioè non so che fare Valerio. Vabbè. Eh. E allora vediamo in che epoca saresti finito. Sono finito qui. Qui adesso sono finito. Sì scusa tu hai fatto un viaggio nel tempo e ti ha portato qui nel presente. Sì. Sì. Ebbè mi sembra chiaro Dante che tu non abbia ben chiaro come funzioni nel viaggio. No. Cioè io vengo dal passato però è come se è come guarda se gli ultimi tre anni mi fossero volati non me ne sono accorto. Si sono cancellati. Ma qua ci vuole un medico però. Ma uno bravo. Ma che ci sono stato dal medico. E che t'ha detto? L'anno scorso ci sono stato. Come l'anno scorso? L'anno è passato capisci? Cioè è subito. Mi ha detto che dovevo stare calmo. Dovevo stare calmo. Eh lo vedi. E tu l'hai fatto? E rilassarmi. Sì. Queste cose qua. L'hai fatto? Non l'hai fatto. Io un paio di settimane fa non ho visto uno di questi documentari che piacciono tanto a me. Un po' l'americano. Allora loro hanno preso due orologi precisissimi. Uno l'hanno messo a Washington a terra mentre un altro invece su un aereo per fare tutto il giro del mondo. Quando poi li hanno confrontati dopo hanno notato che quello a terra stava avanti. E quindi? Eh no. Quindi in pratica lo stesso lasso di tempo sull'aereo dura meno. Capisci? E che cazzo c'entra sta cosa? Come che cazzo c'entra? Come la situazione adesso potete... Questa percezione che tu hai, che il tempo ti voli, magari è dovuta al fatto che corri troppo. Tante. Eppure la situazione con Alice. Ma che... Cioè che situazione? Alice? E tu mi hai detto che le cose non vanno più bene tra voi. Da un po'. Eh? Che avete fatto? Avete deciso che fate aiutare da qualcuno? Ma che? Ma aiutare da chi? Scusa. Siamo bene. Senti, tante. Tu... Allora, sono... Tanto tempo, no? Vettinamenti di tuo padre. Sì. Non penso che vuoi fare la stessa finissima. No. No? Giusto? Ok. Allora molla un po'. Basta. Fermati. Ma non è il tuo solito tra un mese, tra un anno, adesso, oggi proprio. Che pare faccio? Eh no, eh. Che pare faccio? Il problema non è quello che faccio oggi, ma quello che faccio gli altri giorni, gli altri 365 giorni dell'anno, no? Capisci? Cioè, bevi un po'. Eh? Però se mi licenzio? Eh? No, come? Ti mi licenzi. No, ma che ti... Grazie. Ma non intendo... Grazie, Valerio. Grazie, tieni. Bella, calda, come mi piace a me. Bella, calda, come mi piace a me. E non è la calda? Ciao, ciao. Ciao.